Il Modena riparte, riparte da Alfredo Novellino e lui la garanzia tecnica in panchina, garanzie che però ha chiesto anche lo stesso tecnico di Avellino, ha chiesto una squadra importante per puntare almeno ai playoff della Serie B. In squadra oggi ci sono pochi, pochissimi giocatori, c'è Nardini, Dallabona, c'è Gozzi, c'è Stanco, c'è il giovane Minarini, sicuramente va rafforzato, questo Modena va rafforzato, sono aperte le piste per tenere Gulan, per tenere Usuzi, ci cercherà di tenere anche Moretti, fondamentale sarebbe mantenere Mazzarani, la cui metà dovrebbe essere acquistata dall'Udinese, e la Zarevic, oltre che Sturaro, c'è aperta una pista, sono ottimi rapporti tra Cannella, Secco e Caliendo e Rino Foschi, oltre che Enrico Preziosi, quindi c'è la possibilità di tenere qui i due giocatori del Genoa. In porta si parla di Sekulin, che potrebbe essere colui che va a fare coppia con Manfredini, già pronto, a mio parere, al ruolo di titolare in Serie B. La grande incognita è la punta, sostituire Erdemagni con uno, due, tre giocatori, una prima punta e una seconda punta, non sarà cosa facile, faceva reparto da solo Matteo, che andrà o alla Sampdoria, o al Torino, oppure volerà in Premier League, queste per il momento sono le opzioni più vicine. Con chi lo si potrà sostituire? Lo scopriremo in questi giorni, forse in queste settimane sono arrivate voci clamorose di giornalisti anche da Torino, che ci hanno riferito l'interesse per Rolando Bianchi, che sicuramente adesso è in fase di discesa a livello di rendimento e magari anche di ingaggio, però è difficile trovarlo in Serie B, si è parlato di Piovaccari, si è parlato di Micelizze, si è parlato di Livaia, visto che c'è una pista aperta con l'Inter, dove è stato girato Benassi, che potrebbe addirittura tornare anche a Modena a fare il titolare, si è parlato anche di Piovaccari, come detto. Difficile però trovare qualcuno che ti faccia reparto da solo, come Matteo Ardemagni. Questione stadio a Sassuolo, praticamente il Sassuolo è l'unica squadra di Serie A che sembra non trovare pace, non trova una casa, a Modena l'incontro con Pighi e Marino non è sembrato assolutamente un incontro forte di quelli che volevano a tutti i costi far restare la squadra sul terreno modenese, a Reggio farebbero salti di gioia, ma oggettivamente i problemi ci sono, li ha sollevati la questura, li stanno sollevando anche i tifosi, che sentono sballottati i tifosi del Sassuolo tra Modena e Reggio, non li vogliono nemmeno a Reggio perché la Reggiana in quel modo praticamente scomparirebbe, tra l'altro è vicinissima purtroppo per la tifoseria reggiana alla Lega Pro, seconda divisione, staremo a vedere quello che succederà domenica. L'impressione è che prestissimo Squinzi prenderà una decisione e si andrà a firmare per il Città del Tricolore. Chiudiamo con il mercato del Sassuolo, Donati nel Mirino a centrocampo, oltre a lui dovrebbe arrivare qualche giocatore dalla Juve, perché? Perché è vicino l'arrivo di Giovanni Rossi che andrà a fare direttore sportivo in coppia con Bonato che diventerà direttore generale, quindi si ricompone la coppia che tanto bene ha fatto a Sassuolo. Cipsa potrebbe rimanere a centrocampo, nonostante sia in comproprietà col Parma, davanti tanti nomi di proprietà della Juve, Gabbiadini, Immobile e lo stesso Boci. Staremo a vedere quella che sarà la serie A del Sassuolo. Prima momento Squinzi è partito facendo nomi sicuramente non altisonanti, si è parlato addirittura di Sforzini e se si parla di Sforzini la serie A del Sassuolo potrebbe diventare molto, molto diversa rispetto ai nomi fatti qualche mese fa, quando addirittura si parlava di cacau.